Rigao! Che cazzo era? Sotto di noi, sotto di noi, un'altra non lo so Che cos'era? No! Oh! No riga guardate sopra Non l'avete visto? Che? No! Oh! E' gente! E' gente riga! E' gente! Sparatevi! Oh! Rega! 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 2 plus 2 is 4! Minus 2 is 2! E' vero! E' vero! E' vero! E' vero! Rega! Allora! Codo! Codo! Che bello! Cos'è che fa adesso? Non scarrella più? O scarrella troppo lentamente? No no! Gli da proprio un timer! Non puoi sparare! Esatto! Tipo per un po' di tempo non puoi più sparare con un ponte! Oh! Rega! Allora! Non andiamo lì ai palazzi! Buttiamoci tipo qua o qua giù a sud! E poi andiamo verso Paradis Palms! Ah no! Ma ero mutato! Mannaggia a me! Dicevo! Andiamo qua o qua! Uno dei due posti! E poi andiamo verso Paradis Palms! Che ne pensate? Qua dai! Andiamo là? Vai! 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 Oh! Ma che è peccato! Mi pare che sta giocare a PUBG! Rega! No! Ma che è PUBG! A lose! Masseo! Tonight! No! Il masse è volato! È andato Masseo! Non lo so! L'ho tolto il fast farming! Devo provare il fast picking! Vado a prendermi un pump io ragazzi! Vai! Lascio un tacco! Più che altro non ho ben capito se hanno intenzione! Perché io vedo la faglia! La faglia in giro c'è ancora! Non ho capito se hanno intenzione! E metteranno roba! Metteranno roba! Piano piano con l'avanzamento della stagione! 200 IQ sta cosa che stanno facendo! È geniale! Così fa abituci a piano le persone! Per poi in ciclo 6 levare la mappa direttamente! Mi si è appena frizzato il gioco! Bellissimo! Rip! Ok mollo! Poi hanno cambiato i suoni! Sono più forti è una mia impressione! Eh sì! Farò di sì! Ma proprio anche tipo di spostamenti! Di click! Guarda sono! Ho detto un po' tutti! I'm quite happy! Regà quando volete ci andiamo a palms! Direi di andare! Andiamo andiamo andiamo! Driftiamo? Prima fightiamo meglio è! Sì! Vai andiamo! Ho una pozzetta per chi vuole! Ehm! Come? Vai vai vai! Ce n'è una a nord! È otto! Ah lo vedo! Sta saltando! Comunque questo diventerà nuovo spot! Qua dentro c'è una cassa! Magari sono dinosauri qua! Eh? C'è un triceratopo! Ma vivo? Ma... No! Però... Guarda! What? Eh sì! L'avevo letto! C'era scritto che era la zona a tema dinosauri! Controlla se sei palese che sei! Ma guarda! Dagli una botta! Dagli una botta! Eh bravo! Dagli una botta Delo! Sì è di metallo! Sono di metallo! Sono di metallo! Invece si muovono e ci ammazano! Nessuno dice che può diventare... Oddio! Che va tu? La palla vedi? Oh passamela! Oh prendi vai di gol! Vai di gol! È sparita! È sparita! Ma che cazzo? Ma che cazzo? Poverò! Chiappa la volo! Pronto? Vai! Ma come fai? Come cazzo? Ma che... Ah è l'emut! È l'emut! È l'emut! È l'emut! Ragazzi serve il kart! Ragazzi devo atturare il kart! Quello lì sai farà dobboline con quello! Madre di Dio il disagio! Eh! È arrivato il momento ragazzi! Inizio! Oh ce l'ho davanti! Tuttati in testa! Oh madonna! Come entrano i colpi! Uno che salta! Si è in casa! Stanno arrivando! Stanno arrivando! Stanno arrivando! Sì sì! Aia! Faccio il regalo Paolo! Aspetta! Ah! Arrivo qua però! Eh mamma! Mi stanno facendo cadere tutto! No 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 no! Oddio sta laggando tutto! Ragazzi sono morto! Ragazzi c'è uno dietro! Visto! 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 Stavo morendo io! Mi hanno presi due! No no no! Grazie! Ah! Grazie bro! Ti do! Ti do! Ti do! Ti do! Ti do! Ti do! te lo horeci a colpi di cieco! Eh! Li ho io! 59! Ok va bene! 29! Come apriamo! Aspetta!!! Vai! Oh mio Diosietrice! Ma c'è già! Il recognised a colminello! Oh mio dio mollo! No, balento me di Marina di Fu Roma oddio soli soli arrivo arrivo aspetta che vado a prendere il coso pure io no regaliamo si inizia è bellissimo ma che cazzo fa guarda come lo stai facendo aspetta aspetta oddio aspetta pavero dimmi affacciati un attimo la finestra amore che cosa ti soggiorno si è come fai a prendere quel coso dai no premici premi il tasto per cambiare posto vediamo che succede per il testo per cambiare posto sto premendo sto premendo non mi cambia perché siamo in qua ho capito come devo farlo tipo che puoi cambiare l'ho fatto e ti fa passare sotto al porto Siete pronti Cosa di salgare Come twifto mate come cazzo twifto E' arrivato a nuovo a doppole Dai te lo farà così di levarla Oh mio dio oh mio dio ragazzi che riflessi che riflessi ci ho avuto Oh 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 mio dio Dicono che se drift ti da il turbo eh Si ti da il turbo Drifta drifta mollu Ma mollu ma come già tu fai? Non l'ho notato questo turbo E' perchè non stai driftando Ah ca droia che stecca Non ti ha insegnato niente Vai 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 Oh Vai a scarte regale Vai a scarte uguale E ora Oh No guido io Non voglio guidare Non voglio guidare Vai Che mi diverso Ma è mario kart ragazzi Che drift quello lì lo faccio mario kart Si si guarda Guarda Oh Ca droia Ragazzi ci hanno sparato Non vorrei Non lo so da dove Vabbè Andiamo così vedete questo coso Non vedete i posti Non vedete i posti Ma c'è un lago Ma c'è un lago C'è un lago Oh gente sopra Ci hanno sparato Sinistra sinistra Vai solti Vai solti Mo' vediamo un'altra macchina Regà Perché il disagio Si E' pazzisco Ti ricordi come aveva tirato un altro col carrello? Qua davanti Mamma mia che male regà Mi hanno fatto Ma cazzo Colpito Ah no sto colpendo le due carte Nooo Mi avete chiuso Mi l'ho notato Regà pure da dietro Per modello Ti provo eh Vai 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 Non ti guardo Non ho altri materiali quindi stiamo proprio come Hai bende? Si ho bende 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 Va tutto bene va tutto bene Non va più tutto bene Non va più tutto bene Ho visto Regà non è qui sopra Lo abbiamo fatto? No Ah io l'ho colpito un po' Pugcia con power Pugcia con power Che adesso arrivo il tiro Arrivo No no Sinistra su dove Vai Ok vado Lo sono andato? Si si Ragazzi non ho materiali Non ho materiali Venite qua un attimo please Regà c'è un botto di gesto Arrivo Un'altra macchina Col carretto Mollo nella merda regà Si molto Mollo uno te l'ho noccato Sto andando Mollo arriva uno Quittato in testa Mollo Quattordici Eh regà son botto qua A terra Fatto Ok fatto C'è alta gente eh Arriviamo 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 Da sta parte piena regà Eh ma vieni qua Delu Sei da solo Sto arrivando 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 Mi servono Di smg Uno è noccato Si Ragazzi Un botto di gente Un botto Di fronte raga Non deve Bravi A terra uno Fatto Ok Allora quello là Bella regà GG Cazzo Mamma mia ragazzi Cazzo duro Qua ci stanno delle bozzette È una sola Bozzette regà Bozzette per tutti Ce l'ho io Io ne ho sei Chi lo devo lasciare Io non c'è Comunque ragazzi Dove sei? È un po' Ma cazzo Vorrei Comunque precisare In questi ultimi due minuti Sono arrivati Quattro cart Eravamo noi Un altro che c'era già qui Mamma mia che disagio Regà Però fa niente Giovini Non è nostro Ecco perché Prendete visto Sto medici Me lo dirai io se posso Mi dirò il medici E te salgo Guarda questa roba a sinistra Guardiamola abbiamo Appena c'era Oh ho 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 Come è fustato Ma quelli che volano Volete prenderlo? Sì vai Dovevamo andarci anche col cart Così moriamo Regà aspettate Ho trovato l'Smg blu Un secondo Buongiorno Buongiorno Prego Fatto Viamo Volevo Regà Che cazzo era? Sotto di noi, sotto di noi, un altro, non so. Che cos'era? Guarda con il drip. No. Oh, oh, oh. Stai in basso. No, riga, guardate sopra. Non l'avete visto? Che è? No. Eh, allora, si è bucato. Immaginate come si era. Oh, oddio. E' gente, è gente, riga. Non si chiudono. E' gente, sparategli. Ma che cazzo vuoi? Ah, perché si teletrasportano. Riga, ci sta davanti a noi, spaccategli la cosa, la macchinetta. Fatti, let's go, boys. Che burdel. Oh, riga, ma è una mia impressione che i colpi entrano tutti ora. Eh, sì, sembra che sia stato sistemato, non so. Ma poi la cosa del reticolo dentro il mirino è tanta roba. Eh, esatto. Dov'è il cart? Mi lasciate, mi lasciate un po' di materiale. Che cazzo era? Ma riga, ma perché quelli volavano? Domanda. Eh, perché ci sono dei teletrasporti, ci sono dei teletrasporti in giro per la mappa. Madonna, rega, io l'ho visto in Giamparella, mi è preso un infarto. Oh, rifatti i soldi dicendo, ma what the fuck? Non ho capito. Tanta roba. Non ho capito. Non ho capito. Non ho capito. Non ho capito. In cui puoi entrare e ti delle trasporta in giro. Ah, non ho capito. Figata, rega, tanta tanta roba. Comunque, questo season hanno inbrogato meno. Comunque, ragazzi, sembravamo delle scimmie impazzite sul Goggana. Oh, svara, svara, oh, oh, oh. Ah, 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 trrr, trrr. Non ho dato la Mario Kart, rega, perché con la Mario Kart è la fine, è impazzista. Ti giuro. Non ho mai divertito così tanto in primo gioco. Ragazzi, è 284. qua precisamente messo il punto l'ho visto trovo il nostro e la madonna prova il nostro l'ho colpito ragazzi scusa mi riscatemi riscatemi mollo e lasciami push 1 2 andati bella damn bro damn boy oddio velocissimi tranquillo io non ho fatto niente oh ragazzi non mettiamo con la macchina come da con la macchina mollo salta tra 3,2,1 vai vai malu a riparare la nata o allora vuoi volare anche te povero? vai vai salta tra 3,2,1 vai no 1,3 vai salta salta no ancora uno no f*** si cosa? what? che cazzo è? ma che pare una cosa tipo giapponese ma che è? ma infatti ma che cos'è? ma che è sta cosa mobile? ma che è sta cosa mobile? è bellissimo si è rallentato tutto ma si è rallentato tutto regà si si a rallenti perché hai vinto che figata ma secondo me quando uccidi l'ultima persona chi è che l'ha ucciso? eh ti ha rallentato mentre l'hai ucciso tutto si si andavo tutto a rallenti che cazzo? ma che cazzo è? vorrei dire solo una cosa mi sembrava uno di quei porno giapponesi dove c'è il tempo che si stoppa regà ve posso dire una cosa? no regà ve posso dire una cosa? io vedendolo così cioè mi è sembrato una cosa mobile orribile quella con Dictory Royale scritta così è stato orribile sembrava una cosa mobile no no non è male per niente è veramente bello bellissimo regà a me piace un botto good shit boys tanta roba